Ciao, sono Ivan Patruno del Bulk Mixology Food Bar e oggi vi presento il Jan Martini Cocktail Andiamo a raffreddare il nostro bicchiere Andiamo a versare 10 ml di Vemots secco Andiamo a versare il Jan Gin Andiamo a miscelare il drink Andiamo a completare con una bella oliva e dell'essenza di bergamotto Ecco qua il Jan Martini Andiamo a versare 10 ml di Vemots secco Andiamo a versare 10 ml di Vemots secco